Completato lo scrutinio delle 19 sezioni del Comune di Recanati, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Emanuele Pepa è stato ufficialmente eletto come nuovo sindaco con il 58% delle preferenze. Staccato in quasi tutte le circoscrizioni il primo cittadino uscente Antonio Bravi, al quale non è bastato riunire tutta la sinistra e il Movimento 5 Stelle, oltre alle civiche che al primo turno avevano sostenuto Francesco Fiordomo per confermarsi con il secondo mandato. Pepa, lo ricordiamo, era sostenuto dal centrodestra Unito e dopo il primo turno ha rifiutato ogni tipo di imparentamento ufficiale, una scelta che a quanto pare è stata particolarmente apprezzata dai recanatesi visto che il numero degli elettori al ballottaggio non è stato di troppo inferiore a quello del primo turno. Il nuovo sindaco ha atteso nella sua abitazione il risultato e si è recato nella sede elettorale solo quando era stata scrutinata più della metà delle 19 sezioni. La festa è esplosa poco dopo, quando il risultato è stato chiaro a tutti, mentre a Recanati iniziavano anche a arrivare i vertici politici regionali dei partiti di centrodestra e atteso per la serata anche il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli.